... ... ... ... Allora, l'ultima volta siamo andati, ma adesso lo vediamo. Adesso andiamo a Bologna a vedere Pazzo. E allora, da bravi pendolari, perché noi siamo provinciali perlaresi, prendiamo il treno. ... ... ... Allora, rieccovi Wen, salutali, dai, che sennò se mi sono male sul canale. E poi abbiamo anche Filippo, il cui vlog vi metto in descrizione. ... E anche il libro su Amazon, perché leggetelo, dopo ne parliamo, è bellissimo. Sono commosso di questa marchetta inaspettata. Grazie, Steve. ... 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